Ben ritrovati da Simone Nardone a un nuovo appuntamento con il GR locale. Itri Violenta ha emesso nei giorni scorsi dal Tribunale di Roma il decreto di sorveglianza speciale nei confronti di un cittadino italiano di 23 anni residente a Itri già aggravato da precedenti penali e di polizia ed attualmente in carcere. Quando questi uscirà dalla detenzione si vedrà applicata la restrizione della libertà per un anno con l'ingiunzione di non rincasare più tardi delle 21 e di non uscire di casa prima delle ore 7. La parrocchia è senza acqua da una settimana, la denuncia arriva sui social network da parte del parroco, succede a San Magno a Fondi nell'omonima contrada. Don Antonio De Arcangelis attraverso Facebook ha reso nota la situazione accusando Acqua Latina di aver tagliato fuori per errore la parrocchia dalla rete idrica. Fortunatamente la struttura ha un pozzo e quindi ci si è arrangiati con i secchi ma è circa una settimana che va avanti il problema e il parroco giustamente commenta come può una parrocchia che da Acqua Latina viene classificata come tariffa uso pubblico restare senza acqua per una settimana. Gaeta festeggia San Francesco in occasione dell'ottavo centenario della sua presenza in città. Il comune Gaetano si appresta ad onorare e ricordare il santo con una serie di iniziative in onore del Patrono d'Italia. Diverse sono quelle in calendario, la più interessante è quella che si sposa con la settima edizione di Favole di Luce che si terrà dal 29 ottobre al 15 gennaio illuminando la facciata del Tempio di San Francesco proponendo alcuni momenti della vita del santo di Assisi ritratti da giotto ma sono previste anche molte altre iniziativa sul tema patrocinate dal comune. Un corso teatrale gratuito con i residenti di Campo di Mele oggi alle 18.30 all'open day partecipando ci sarà anche la possibilità di prendere parte a un reality show ad organizzarlo l'Officina delle Arti e dei Mestieri di Campo di Mele insieme all'Assessorato alla Cultura del Comune di Campo di Mele e con la collaborazione della Casa di Produzione Teatrale On Broadway di Fondi. Ai partecipanti verrà data la possibilità di partecipare ad una puntata da protagonista nello show televisivo L'Accademia degli Artisti dove tutto può accadere in onda su Roma TV visibile sul canale 82 del Digitale Terrestre, sul canale 213 di Sky e in streaming. Possono prendere parte al corso di recitazione tutti a partire dai 5 anni di età. Si svolge quest'oggi a partire dalle 19.15 l'Assemblea Pastorale Diocesana presso la Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria del Villaggio Don Bosco di Formia. Interviene all'Assemblea Monsignor Valentino Bulgarelli, sottosegretario della CEI, direttore dell'Ufficio Catechistico Nazionale e segretario del Gruppo di Coordinamento Nazionale del Cammino Sinodale. All'Assemblea sono invitati i sacerdoti, i religiosi, i diaconi, i direttori degli uffici di curia, i membri del Consiglio Pastorale Diocesano e dei consigli pastorali parrocchiali, i componenti dell'ACDAL e i coordinamenti foragnali. Questa era la nostra ultima notizia. Un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del giornale radiolocale.